Il matrimonio reale tra William e Kate è avvenuto il 29 aprile 2011, presso l'abbazia di Westminster a Londra. La cerimonia è stata un evento di grande portata, trasmesso in diretta televisiva in tutto il mondo e seguito da milioni di persone. Kate ha indossato un abito da sposa firmato da Sarah Burton per la casa di moda Alexander McQueen, che è stato ampiamente acclamato per la sua eleganza e il suo stile classico. Il matrimonio reale è stato celebrato, con grande gioia, e festeggiato da migliaia di persone a Londra e in tutto il Regno Unito. Kate Middleton è diventata ufficialmente sua altezza reale Catherine, duchessa di Cambridge, e ha iniziato il suo ruolo come membro della famiglia reale britannica con grande impegno e dedizione. Il 15 giugno si terrà l'annuale celebrazione del Drop in the Color, nota anche come King's Birthday. Tradizione vuole che i membri senior della Royal Family si affaccino dal balcone di Buckingham Palace per porgere il loro saluto ai reggimenti del Commonwealth e della British Army, ma anche per un facce tu facce con i sudditi britannici. Kate Middleton non sarà presente alle prove, tuttavia previa autorizzazione dell'equip di medici potrebbe concedere agli inglesi una fugace apparizione. Nulla però è certo Antonio Caprica, giornalista ed esperto reale, ha espresso la sua più sincera opinione negli studi Mediaset di Pomeriggio 5, parliamo di una cosa molto seria, che riguarda la principessa. La premessa che precede la sentenza non è vero che c'è la certezza che si farà vedere. Il giornalista ha fatto riferimento alle condizioni climatiche instabili, tipiche del territorio londinese. Un fattore, questo, che potrebbe implicare delle gravi conseguenze sulle condizioni di salute precarie della futura regina. Ho fatto circa 25 trooping decolor in tutta la mia vita e c'era il sole solo in due o tre casi ha ribadito però chissà cosa. Accadrà.